Bentornati amici del Piccole Magazine, siamo sempre qui al Candileia di Bologna per lo spettacolo Azz Napolé che si è appena concluso e sono in compagnia di... Diana Bludura, buonasera a tutti. Benvenuta Diana, allora parlaci, com'è andata la serata allo spettacolo? Beh la serata è andata molto bene direi, poi ho un po' la passione per Napoli, quindi sono proprio nella mia comfort zone, però direi che dall'apprezzamento del pubblico si è fatto sentire. Come un po' tutte le serate Azz, va sempre abbastanza bene questo tipo di spettacolo nella nostra regione, nella nostra città in particolare. Ah io prima ho potuto vedere lo spettacolo, è stato divertentissimo, veramente molto professionale, ma infatti dietro c'è un grande lavoro, dietro questi spettacoli. Certo, certo, sia in questi spettacoli costruiti ma anche un po' nella carriera drag, no? C'è sempre da fare della ricerca per perfezionare il personaggio, degli studi, acconciare le parrucche, comunque farsi i vestiti, studiare per migliorare anche il make-up, quindi insomma è sempre un evolversi e un evolvere sia il personaggio che lo spettacolo in sé. Infatti a tal proposito parlaci di te, tu da cosa nasci il tuo drag? Allora io nasco nel 2014 perché ho iniziato a seguire questo gruppo di matte, mi sono subito appassionato a questo mondo, insomma mi piace molto il cabaret e ho scoperto di avere anche la passione per l'arte drag. Quindi ho deciso di iniziare questo percorso che ormai dura da quasi sette anni, quest'anno è il settimo e niente, quindi porto avanti un po' il mio personaggio continuando con questi spettacoli cabaret che a me piacciono molto e mi divertono tanto, mi diverte anche divertire il pubblico. Sicuramente sei una drag completa, sai ballare, recitare, cantare. Il tuo personaggio che riesce meglio quando sei sul palco? Ma a me piace sempre fare un po' le grandi dive, a me piace portare, ne so porto Liza Minelli, porto Cher oppure grandi pezzi come Can't Take My Eyes Of You, tutte queste performance, queste canzoni che la gente conosce e la gente canta, mi piace molto coinvolgere il pubblico, quindi prediligo questo tipo di performance ecco. Il tuo style, i tuoi outfit prendono ispirazione anche da qualche altra drag più famosa o sono tutti i tuoi? Ma in generale no, decido io i miei outfit, magari li disegno e propongo l'idea alla mia costumista e ne parliamo assieme e si cerca di arrivare a un bel outfit insomma, poi ovviamente da abbinare la parrucca, il trucco eccetera eccetera. Visto che lo spettacolo di stasera è andato così bene, progetti futuri, parlacene un po'. Oddio, progetti futuri, sì sono stato contattato per due o tre progettini, che però non dico niente per scaramanzia e poi continuo sempre a fare insomma questi spettacoli che mi piacciono tanto assieme al gruppo della Simona e assieme a questa meravigliosa famiglia che mi ha accompagnato in questi meravigliosi sette anni di carriera e spero di farne altrettanti e magari anche di più. Allora lo scopriremo presto e grazie per il tuo tempo per essere stata con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Grazie a tutti.